Ciao ragazzi e benvenuti al parchetto del tagliagole oggi ci facciamo una bella chiacchierata insieme sui cloni Spyderco e un accenno anche sugli altri vediamo insieme chi li vende, chi li compra, come riconoscerli facciamo una bella chiacchierata insieme ho anche il caffè e il menaboda la discussione perché sarà abbastanza lunga allora, cos'è un clone? un clone è qualcosa che imita, un'imitazione se ve la devo spiegare con un esempio ai miei tempi in spiaggia quando eri al mare arrivava al Vucunprà con i jeans della Levis e vendeva questi jeans della Levis a 20 euro quando invece in negozio costano 80-70 euro ovviamente questi jeans non erano jeans della Levis erano dei jeans a cui era stata attaccata il talloncino rosso sulla tasca e la peccetta in cuoio Levis quindi all'occhio inesperto potevano sembrare dei Levis originali in realtà non lo erano quindi un prodotto costruito per ingannare tra virgolette sempre perché comunque una volta che il pantalone ce l'hai addosso fa il lavoro di un pantalone sarà diverso, calzerà male sarà fatto peggio o anche meglio, non si sa però sicuramente non è la cosa che hai pensato di comprare ok? a questo proposito volevo fare l'esempio del ganzo ok? il ganzo 729 è stato costruito copiando completamente il Paramilitary 2 della Spyderco ok? ma non è un clone attenzione non è un clone il ganzo è un coltello copiato dalla Spyderco ma di facilissima individuazione per quale motivo? perché sulla lama adesso non so se si vede c'è scritto ganzo e dietro il marchetto Firebird ok? quindi sulla lama non ha il ragnetto della Spyderco non ha scritto Spyderco ma semplicemente ha il logo della ganzo e il logo della Firebird quindi questo coltello ha una sua identità non vuole ingannare nessuno quando compri un ganzo non stai comprando un clone della Spyderco stai comprando un coltello con la sua identità e la sua casa nessuno potrebbe essere ingannato tieni ti vendo uno Spyderco oh ma c'è scritto ganzo questo è il primo concetto da capire non è un clone questa può essere una copia hanno copiato il modello ma non è sicuramente un clone perché appunto c'è scritto ganzo e non può essere confuso adesso vediamo un clone vero un clone che fa ridere io in questo momento in cui siamo chiusi in casa pensavo di recuperare un pochino più di roba non è stata così ragazzi ne ho recuperato uno solo però va sicuro che questo merita tutto perché è il clone più brutto che ho mai visto allora è un clone del Native 5 in G10 della Spyderco cosa notate subito? che ha il buco invece che essere perfettamente rotondo è ellittico quindi fa già ridere di suo questo se non avesse avuto il ragnetto Spyderco le scritte Spyderco e il CPMS 35VN della lama dietro prodotto in colorado e palle sarebbe stato un coltello discreto da 10, 15 euro, 20 euro ok un coltello anche robusto in mano ragazzi non è che stiamo parlando di un coltello fatto di carta è veramente un bel pezzettone di ferro se non avesse avuto i marchietti ok ci avrebbero scritto sopra Kenshiro ok sarebbe stato un bel coltello Kenshiro un coltello ovviamente economico per chi vuole avere un coltellino in tasca ma un coltello economico il coltellino Kenshiro anche perché col buco ellittico ovviamente non si può confondere neanche volendo con uno Spyderco l'errore è mettere proprio il loghino Spyderco e le scritte della Spyderco anche con il ragnetto sulla clip questa cosa è una cosa che a livello legale non si può fare e a livello etico morale non è proprio il massimo però fermiamoci un secondo oggi non parleremo parleremo dei cloni in generale ma senza attaccare il discorso del clone su etica e morale e soprattutto dal fatto legale lo sappiamo che è sbagliato ci sono pazienza oggi parleremo solamente di loro in sé senza andare a toccare altre cose allora ragazzi fatemi guardare un attimino qua cosa dobbiamo vedere perfetto perfetto un pochino di caffè scusate ma oggi c'è una discussione lunga allora chi ah no facciamo prima chi vende chi vende i cloni ok dove compro i cloni allora i cloni ragazzi li vendono tutti i siti cinesi ok i mercati cinesi diciamo ok wish aliexpress questi siti qua se comprate su questi siti il 100% è un clone non hanno modelli originali quindi vendono solamente cloni quando comprate su questi siti lo dovete capire perché non potete poi chiedere ho comprato questo su wish è originale no non è originale è una copia magari fatta pure bene ma è una copia io ho avuto in mano lo yomibo 2 della spiderco e il paramilitary 2 della spiderco cloni ragazzi non si capisce la differenza cioè se lo prendi in mano non ti fermi a vedere i dettagli che poi vedremo non capisci veramente la differenza è veramente incredibile come li copiano perfettamente a livello visivo quindi non ne capisci veramente la differenza hanno un peso anche veramente molto molto simile se questo non lo so questo l'avranno fatto non lo so è veramente bruttissimo questo come copia come coltello no come copia veramente orrendo e poi chi li vende abbiamo detto i siti ok i privati consapevoli di venderli ok consapevoli ragazzi io ho un clone è il clone del microtech ok questo è un clone questo coltello costa 1000 euro ragazzi io ho comprato il clone ne ho spese non mi ricordo 60 70 euro è un clone fatto da dio fatto da dio tutto manicato in titanio ragazzi cuscinetti a sfera è un clone bellissimo mi piaceva questo coltello io 1000 euro sinceramente non li avevo e allora mi sono comprato questo clone che chiamiamo più replica della microtech è un bellissimo oggetto un bellissimo coltello veramente fatto da dio poi ci faremo una recensione ma ovviamente non è il microtech è un clone è una replica è un bellissimo coltello ma non ha nessun valore collezionistico questo per dire che se un privato vi vende una replica io dovessi vendere questo microtech ve lo dico ragazzi è un bellissimo coltello ma è una replica quindi parliamo di privati onesti ok nel senso io la replica te la vendo a 70 euro e non a 800 spacciandotelo per quello vero ok ma andiamo adesso nella categoria più ampia comunque nella categoria dei privati disonesti perché cosa succede questi privati comprano in cina sui siti aliexpress e roba varia li prendono a 15 euro 12 euro 10 euro 8 euro io ho visto dei paramilitari 2 a 8 euro ragazzi cloni li comprano e poi li rivendono come se fossero originali li rivendono a 60 70 euro e ti dicono super offertissima 70 euro il paramilitari 2 ragazzi sta un po' anche a voi non esiste non esiste cioè se vedete un coltello che è veramente nuovo e costa meno della metà di quello che costa normalmente ovviamente dovete farvi un attimino di dubbi almeno che vi sfiorino un consiglio che vi posso dare è comprare sui siti ragazzi sui siti scusatemi sui gruppi facebook il gruppo spiderco italia di facebook ha veramente tantissimi utenti ok e venditori espertissimi di fiducia se comprate lì ragazzi siete tutelati parlo di spiderco cioè sapete benissimo che se tizio vi vende l'endela è l'endela della spiderco non dovete nemmeno avere il dubbio che siano dei cloni quindi se comprate da utenti di gruppi spiderco utenti ovviamente famosi nell'ambiente è impossibile beccare delle fregature è impossibile i denti 30 persone che comunque interloquiscono spesso nel gruppo parlo di spiderco italia sono tutte persone fidate sono tutte persone che se vi mandano un'endela è un'endela non è la copia cinese anche perché dell'endela non la fanno comunque ok quindi il mio consiglio è se non lo trovate in un negozio fisico anche perché comunque nei negozi fisici c'è stata gente che ha preso l'inculata c'è gente che ha comprato coltelli tipo l'endura che è uno dei più copiati considerandolo vero ok è preso il negozio come vero e alla fine si è scoperto che era un falso quindi c'è anche ci sono anche dei commercianti disonesti parliamoci chiaro però ripeto se comprate in un negozio di quelli famosi ok Lamnia Collini l'altro chi è Knife and Tools Top Knife visto che me li chiedete sempre ragazzi ma non me ne frega niente di fare un po' di pubblicità visto che me li chiedete poi sotto ve li dico io prima questi siti qua sono siti che vendono tutti ok tutti coltelli originali non potete prendere l'inculata l'inculata la prendete se lo prendete da giginus pur regione allora magari potete prendervi l'inculata se no ragazzi i coltelli sono originali ripeto se li comprate invece nel gruppo in un gruppo facebook che sia con lo spider che sia col stile ragazzi gli utenti che usano di più questo gruppo li vedete subito e sicuramente negli utenti più noti non c'è possibilità di prendere fregatura ok adesso vediamo un attimo chi li compra chi li compra i cloni allora li compra mio padre ok non è vero era per fare un esempio che di coltelli non ne capisce nulla va al mercatino vede la bancarella del cinese con il clone del native 5 spider e dice cazzo che bel coltello però non ne frega niente che è spider a lui gli interessa che è un bel coltello gli piace la forma gli piace l'acciaio oh raga gli piace il peso boh me lo compro se lo compra se lo mette via l'ha pagato quei 10 20 euro 30 euro parlando sempre di commercianti onesti eh ragazzi non penso che uno va al mercato a cercarsi lo spider lo paga quello che lo deve pagare se lo porta a casa ed è contento ok poi invece sono gli acquirenti quelli che invece sono mi dispiace dirlo però un po' poco furbi non puoi pretendere di comprare un coltello che costa non ho il paramilitare 2 vabbè che costa 200 250 260 euro e portarlo a casa 15 euro non puoi non esiste raga non esiste non si può è inutile che vi mettete in testa ho fatto l'affare no t'hanno fregato l'altra categoria che compra i cloni ragazzi attenzione sono i collezionisti per quale motivo perché il collezionista si compra il paramilitare 2 vero ok della spiderco lo mette in un cassetto in bacheca e poi si compra il clone per usarlo ok è un discorso che può essere capito o non capito io ho il mio pezzo da collezione lo metto via e uso il clone per farci tutto quello che voglio perché comunque mi piace la forma del paramilitare 2 un acquisto consapevole che può essere condiviso o meno ma comunque è una categoria che compra i cloni ragazzi il collezionista compra i cloni per mettere via il coltello buono e usare il clone non tutti ovviamente poi allora vediamo cosa ci stiamo perdendo ok allora adesso andiamo subito a vedere la parte spiderco come riconoscere uno spiderco vero da uno spiderco fake allora come vi dicevo ragazzi una cosa che è molto importante molto molto importante per identificare uno spiderco vero da uno finto è proprio il packaging la confezione se qualcuno vi vende uno spiderco ok questo è un'endela vi vende uno spiderco senza confezione dovete essere sicuri al 100% che sia una persona affidabile quindi in questo caso ragazzi ripeto cercate sempre di comprare su gruppi facebook tipo spiderco italia dove siete sicuri che gli utenti più noti non vi fregherebbero mai ok quindi arriva lo spiderco senza scatola perché magari la scatola è andata persa ma lo spiderco è completamente originale in altri casi dove vi vendono gli spiderco senza scatola ragazzi 99 su 100 sono comunque delle imitazioni perché la scatola è così importante prima di tutto perché questa è quella fake questa è quella originale ok cambiano completamente come potete vedere oggi a mettere a fuoco è un disastro cambiano completamente prima di tutto il rosso ok il rosso è completamente diverso come potete vedere si vede bene no un rosso più scuro l'altra cosa che cambia è questa linea che sulla scatola fake non c'è assolutamente ho visto scatole fake con questa linea questa onda argentata ma il rosso è comunque sempre diverso se non siete così dei fini osservatori che voglio dire non è che ci voglia tanto però può darsi che qualcuno non si accorga la cosa a cui dovete fare attenzione al 100% è questa sulla scatola originale c'è l'etichetta con modello indichiamolo scusate sto prendendo il coltello ma mi è segundito allora modello ok numero del modello nome del modello codice a barre e paese di produzione sulla scatola fake in realtà non c'è nulla questa etichetta manca sempre questo per dire ragazzi se vi vendono o se vi propongono uno spider con la scatola senza questa etichetta al 100% 100% 100% è un fake l'etichetta è solo sulle scatole originali ok ok andiamo all'interno della scatola lasciamola così così vediamo anche l'originale ok allora abbiamo il nostro coltello questo è un Delica ok bellino perfetto dentro la scatola cosa abbiamo ragazzi abbiamo prima di tutto questo foglietto che va a illustrarvi la gamma Delica come potete vedere e le sue varianti nella scatola fake non c'è praticamente mai non lo potrete mai trovare perché proprio non c'è nella scatola fake però mettono questo foglietto di presentazione che se lo guardate in modo non attento potrebbe essere molto simile scusate che lo sistema allo stesso modo cioè vabbè adesso ve lo faccio vedere se lo guardate in modo non proprio attento potrebbe trarvi in inganno ah ho dentro il foglietto o allora originale non è vero allora attenzione guardiamo prima quello originale quello originale ok in questo punto in questo punto scrivono esattamente il modello che state comprando se compro un Delica ok lì c'è scritto Delica nel modello fake invece solitamente non li cambiano quindi a parte gli errori che ci sono di ortografia proprio però qua troverete quasi sempre military model ok che non è assolutamente il modello del coltello che avete comprato questo infatti era il foglietto del native 5 ok quindi questa cosa ragazzi è molto importante il foglietto dice sempre in quello originale qui ok il modello vero veritiero che contiene la scatola non sono foglietti a caso sono stampati ognuno per il proprio modello ok altra cosa da vedere questo è veramente il più povero della terra come clone perché non ha neanche la spugnetta nella confezione originale c'è la spugnetta di solito anche in quella fake c'è però in quella originale ok se lo guardate in controluce non ci guardate attraverso in quello fake la spugnetta che ne ripeto in questo caso non c'è perché questo è veramente il più brutto che ho mai visto ok non c'è la spugnetta del fake solitamente è di una densità molto più bassa quindi se la guardate in controluce potete vedere dall'altra parte è un'altra cosa per individuare se è fake o no ripeto in quella spiderco non ci vedete attraverso ok mettiamo via foglietti e fogliotti eccoli qua via li facciamo vedere il nostro delica bellissimo altra cosa modelli così particolari tipo questo delica con la lama sheepfoot difficilmente vengono clonati vengono clonati i classici modelli paramilitari il ho visto repliche del paramilitari dell'endura del dragonfly del native del matriarch ci sono comunque una serie di modelli che vengono copiati non mi si mette a fuoco e altri no ok allora questo qua lo mettiamo via adesso vi faccio vedere un attimino come invece riconoscere sul coltello ok dal coltello proprio se è originale o meno prendiamo appunto questo endela ok per che ripeto è un coltello che non viene assolutamente copiato però assomiglia all'endura che è uno dei più copiati ho preso questo ok che è un endela che non viene assolutamente copiato proprio per dare la garanzia al 100% che è originale allora sul modello originale di Spyderco io la prima cosa che guardo è il jimping ok il jimping della lama è perfetto tutte le piramidine sono identiche se viste di profilo come potete vedere ok sono identiche lo vedete nel modello clone invece queste piramidine solitamente sono irregolari è una cosa che io guardo spesso perché scusatemi perché è veramente una delle cose che me lo fa riconoscere prima su certi paramilitari questo jimping è talmente irregolare da renderli veramente veramente ridicoli ok l'altra cosa che vi voglio far vedere sono le scritte le scritte ovviamente eccole qua sono sempre perfette le vedete sempre perfette ok se andiamo a prendere il clone invece oltre a vedere le scritte che invece di essere incise sono colorate praticamente ok come potete vedere questo che è il clone più brutto della terra ha scritto colorado metà maiuscolo e metà minuscolo ragazzi sono cose che voglio dire non si può dire anche se avesse avuto il buco rotondo perfetto non si può dire che questo è un coltello originale perché comunque anche le scritte fanno ridere poco tempo fa sul gruppo spider qui taglia un utente ha postato un coltello un paramilitari 2 con le scritte talmente imbarazzanti che gli abbiamo risposto se erano state scritte dal cinese mentre andava sul riscio ok perciò ripeto un'altra cosa sono veramente le scritte sono proprio diverse ragazzi le vedete tranquillamente cioè proprio un altro mondo e soprattutto sono scritte o male come questa colorado metà maiuscolo e metà minuscolo anche golden oppure sono proprio scritte storte quindi è molto facile riconoscere le scritte sbagliate o meno l'altra cosa è che i ragnetti sono veramente stampati perfetti sui modelli originali per quale motivo perfetti perché praticamente non hanno assolutamente il bordo più chiaro lo vedete tranquillamente su un clone si vede il ragnetto che è stampato non completamente uniforme ripeto perché viene praticamente colorato sul clone quindi non è completamente uniforme ragazzi è una magari questo è un particolare che potete benissimo evitare di vedere magari io ho coltelli dove magari il ragnetto si è un po' rovinato diciamo che è uno dei particolari minori da guardare ok però jimping e scritte sono veramente le prime cose da guardare in assoluto adesso prendo un secondo il ganso perché io il paramilitary non ce l'ho però appunto visto che è il disegno praticamente copiato lo possiamo vedere sul ganso sul paramilitary 2 una cosa visto che sono tra i più copiati ragazzi oltre al jimping e alle scritte ripeto questo è un ganso però non avendo il paramilitary 2 oltre al jimping e alle scritte che sono imbarazzanti se lo guardate bene se ne trovate uno con le scritte perfette il jimping perfetto controllate le cartelle in acciaio all'interno perché sulla cartella opposta a quella del blocco ok del compression look che è quella sopra la cartella sotto nei modelli originali è forata sia dietro sto entrando ok è forata sia dietro che davanti ok nel modello clone invece è forata solamente dietro davanti è piena almeno nei cloni che ho visto io erano tutte così quindi ripeto se trovate la cartella forata solamente dietro è praticamente un clone non ci scappa nessuno ok poi abbiamo ah ok la chiusura imprecisa ok dove la lama si chiude sul blocco lama ok la chiusura dell'originale è perfetta se vista di profilo combacia alla perfezione nei modelli clone questa chiusura non è mai precisa molte volte la lama è più alta rispetto al blocco lama ok quindi è un'altra cosa da guardare quando prendete uno spider che non sapete da chi lo state prendendo un'altra cosa che possiamo vedere tranquillamente è la clip questo è un particolare che sembra assurdo ma è tranquillamente così se guardate bene il bordo della clip se lo mettiamo a fuoco non andrà mai a fuoco mai nella vita proprio eccolo lì no niente da fare ragazzi non va a fuoco vabbè comunque il bordo della clip ragazzi come lo vedete è molto molto irregolare ok sembra proprio tagliato giù male niente non riusciamo a mettere la fuoco ragazzi ve la faccio vedere da qua è completamente irregolare questo taglio questo bordo ok questo bordino ok il bordo il lato della clip è tagliato giù veramente male considerando che invece quelli della spider con li vedete subito che sono tagliati tutti perfetti ok lo vedete com'è tutto irregolare ok su uno spider con irregolare questo bordino non esiste ragazzi cioè non è fatto così male questo è fatto veramente male tutto irregolare lo vedete spero di averlo messo a fuoco anche se non penso poi che dire l'altra cosa sono le lame nere ragazzi sui cloni una cosa che vi consiglio vivamente io lame nere non ne ho perché non mi piacciono una cosa che vi consiglio veramente è di non comprare cloni con la lama nera per quale motivo perché la lama nera in Cina ok non viene lavorata in maniera ottimale ma viene semplicemente semplicemente verniciata quindi danno una mano di vernice per farle nere vengono dipinte praticamente non è proprio il massimo se poi ci tagliate anche degli alimenti ragazzi spero di aver detto tutto spero di avervi chiarito dei dubbi sui cloni spiderco ok su come riconoscerli se ho dimenticato qualcosa mi raccomando aggiungetelo ok sotto nei commenti così lo scopro anch'io una cosa che non vi ho detto che ci tengo a dirvi è che solitamente il tipo di acciaio specificato sulla lama dei cloni è esattamente quello la scritta è esattamente quella che c'è sull'originale però non pensate che corrisponda alla realtà solitamente sui cloni gli acciai usati sono abbastanza economici ok soprattutto sui cloni da 15 euro 20 euro gli acciai sono abbastanza economici ricordo che comunque i cloni non sono solamente spazzatura ci sono anche dei cloni fatti veramente veramente bene che appunto come ho detto prima molti collezionisti usano invece di usare l'originale che tengono nel cassetto quindi coltelli fatti veramente bene coltelli che ovviamente non costano 15 euro coltelli che costano una settantina di euro con materie prime buone ok titanio e d2 ok materie prime buone coltelli che potete decidere voi se comprare o meno rispetto a quello che pensate di questo mercato ovviamente ci sono ok ragazzi che dirvi da Raul dal parchetto del tagliagole è tutto buona giornata ciao